La Città Visibile L'anno fa ci troviamo qua insieme al grande fotografo e reporter internazionale Gianno Lucas a far vedere gli scatti che il grande fotografo aveva fatto per Grosseto la scorsa estate ospitato dalla Fondazione Giannati. Dopo un anno, un anno in passato, siamo riusciti a fare questo libro tra l'altro in un'ottima edizione che è ben stampato dall'editore fisico che ha una prefazione di Giovanna Leoni e i testi sono di Giuseppe Corbito che sono entrambi nel comitato scientifico della Fondazione. Quindi io ringrazio tutti per aver reso possibile la stampa di questo libro e questo libro sarà presentato in modo più organico il 30 settembre quando la Fondazione Giannati, sempre all'interno di questa manifestazione, presenterà un evento, la passeggiata letteraria che dalle ore 17 da qua al Cassero si snoderà lungo alcune vie per la città, conventando le vie, le piazze, le strade, i monumenti, con testi di Luciano Giannati, con testi di Italo Calvino e con testi di Giuseppe Corbito. Quindi vi attendiamo il giorno 30 settembre con la passeggiata letteraria e la presentazione più organica di questo testo che, come avete visto, è inventato nell'altro del passato. Quindi ringrazio tutti e buona misura.